Una fiera da record, la sessantesima edizione della fiera dell'artigianato artistico della Sardegna. Abbiamo registrato oltre 268 mila euro di vendita di manufatti artigianali, di eccellenze artigianali, oltre chiaramente tutto il comparto dell'agroalimentare e libri e proloco, una spesa media per ogni visitatore di oltre 50 euro. Questo significa che i nostri visitatori, entrando in fiera, hanno trovato un clima ideale, degli spazi allestiti in maniera tale che si sono sentiti rappresentati dagli ambienti, ma soprattutto da cosa? Dal manufatto artigianale. Quindi addirittura abbiamo registrato una media di due acquisti per ogni scontrino emesso, quindi un'esperienza al cliente e del cliente elevatissima, un'esperienza che si è amplificata perché abbiamo avuto all'interno della nostra manifestazione il tour experience, quindi il visitatore si è trovato ad entrare in fiera e poi aggiungere alla sua esperienza tutto un tour fatto di toccare con mano i territori che sono circostanti a Mogoro, i territori di parte Montis, dove hanno potuto toccare con mano la produzione del pane artigianale, la lavorazione specifica della pasta o addirittura visitare i musei più vicini al territorio. Noi siamo estremamente soddisfatti da questo bilancio che è fatto soprattutto da una serie di competenze che in questa fiera negli anni abbiamo potuto raggiungere attraverso uno staff di persone, dai social media, i grafici, i coordinatori degli staff e di presidio, che insieme hanno collaborato e ogni anno in sinergia portano la fiera ad essere appunto la fiera più importante del comparto nel Mediterraneo.